Quest'oggi celebriamo la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Il titolo di arcangelo deriva dall'idea di una corte celeste in cui gli angeli sono presenti secondo gradi di dignità differenti. Gli arcangeli occupano le sfere più elevate delle gerarchie angeliche. Essi hanno il compito di preservare la trascendenza e il mistero di Dio e allo stesso tempo rendere presente e percepibile la sua vicinanza salvifica. La Bibbia rivela le specifiche missioni di ognuno. Michele, avversario di Satana e del male, Gabriele, annunciatore e Raffaele, soccorritore. Michele e Gabriele sono citati anche nel Corano, nella seconda sura, sono chiamati Micah e Jibril. Secondo la tradizione, i due avrebbero provveduto a distruire il profeta Maometto. Ma veniamo al Vangelo di oggi. Gesù sta dialogando con Natanaele, che diverrà uno degli apostoli, meglio conosciuto come Bartolomeo, e gli dice questo. Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. E gli disse, in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Giusto ieri ci siamo posti alcuni interrogativi su Gesù. Abbiamo visto che la gente del suo tempo aveva dubbi su chi fosse davvero, sulla sua identità. Gesù, con le parole che rivolge a Natanaele, ci apre l'orizzonte, come se aprisse un sipario sulla scena per farci guardare oltre. Gesù è venuto sulla terra, si è fatto uomo per aprirci gli occhi, per farci guardare oltre, per allargare il nostro sguardo, spesso chiuso e piegato sulle cose terrene, ed incapace di accorgerci che non c'è solo il mondo materiale, ma anche una dimensione spirituale trascendente della vita. In particolare, la festa di oggi ci invita a non avere uno sguardo orizzontale sull'esistenza, ridotto al mondo materiale, perché c'è di più, c'è un mondo trascendente. Il brano di Vangelo, abbinato alla festa odierna, ci invita ad alzare lo sguardo, non per perderci tra le nuvole o di staccarci dalla realtà, ma per renderci conto che la realtà è composta anche da una dimensione spirituale trascendente. Non è reale solo ciò che tocco e che vedo con i miei occhi, ma c'è di più, c'è un Dio che mi ama. Ci sono arcangeli e angeli che sono presso Dio e che hanno la funzione di farcelo sentire vicino, che hanno il compito di lavorare per il bene. Esiste il male che è il demonio in persona e che non è un'invenzione per tenere le persone nella paura, ma è colui che desidera il nostro male, è quello naturalmente dell'umanità intera. Vi è un regno di Dio dove vivremo per sempre e tracce di questo regno ve ne sono già qui sulla terra, tutte le volte che c'è qualcuno che ama, che crede, che lavora per il bene. C'è l'aldilà, c'è la vita eterna, abbiamo un'anima, la morte non è la fine di tutto, ma il passaggio verso un luogo dove vivremo per sempre con Dio e con i suoi angeli, nella pace e nella gioia eterna. Esiste allora una realtà trascendente. La realtà non è solo quello che noi vediamo e tocchiamo qui sulla terra. Credere all'esistenza degli angeli e degli arcangeli non è allora credere alle favole, ma è credere che la vita non è solo fatta di materialità, non siamo solo corpo e materia, ma esiste una dimensione spirituale dell'esistenza che spesso non sappiamo intuire perché è troppo presi da noi stessi. Mi viene a tal proposito in mente una bellissima frase dell'artista Russo Kandinsky, padre dell'astrattismo, che affermava nel suo libro Lo spirituale e nell'arte, un bellissimo libro, dice L'artista è come un sacerdote perché ha il compito di ricordare all'uomo che esiste una dimensione spirituale della vita. Buona giornata a tutti.